parliamo di analitica della retta quindi qui abbiamo una slide sulla ricerca del punto di intersezione tra due rette diciamo che il punto a è l'intersezione della retta f e della retta g quindi il sistema riguarda retta y uguale a 3x e y uguale a meno 3x meno 5 mezzi diciamo che per determinare intersezione diciamo il punto di intersezione di due rette è necessario risolvere un sistema in questo caso le rette f e g sono rette incidenti e il punto a ha le coordinate meno 0,42 meno 1,25 in decimali oppure meno 5 dodicesimi e meno 5 quarti quindi si risolve il sistema tra le equazioni di due rette è un sistema lineare si risolve con i metodi classici confronto riduzione sostituzione kramer e riduzione qui abbiamo distanza tra due punti o lunghezza del segmento a b l'applicazione del teorema di pitagora naturalmente la distanza b e la differenza delle ascizie al quadrato più la differenza delle ordine al quadrato tutto sotto radice applicando pitagora al triangolo rettangolo abc in particolare a c e b ci sono cateti ab e in questo caso è l'ipotenusa quindi la somma dei quadrati dei cateti è equivalente al quadrato costruito sull'ipotenusa e quindi abbiamo il lato ab poi qui abbiamo una slide su come calcolare l'area di un triangolo date le coordinate le vertici abc qui intanto si rappresenta sul piano cartesiano il triangolo e qui si elencano dei punti il primo punto questo si calcola prima la distanza tra due vertici scelti come base ricordiamo che geometricamente l'area del triangolo è base per altezza diviso 2 se io scelgo la base b come a b lato a b come base determiniamo con la formula vista precedentemente la lunghezza a b poi cercheremo l'equazione retta che passa per a e b questo ci serve perché perché fondamentalmente fornisce diciamo il coefficiente anche angolare quindi la pendenza della retta b si calcola poi l'altezza come distanza punto retta esiste la formula che fornisce distanza punto retta dove naturalmente la retta b l'abbiamo trovata precedentemente e il punto c lo conosciamo per questo caso a coordinate 8 8 quindi siamo in grado tramite la formula che fornisce distanza punto retta di trovare l'istanza ch come perpendicolare condotta al punto c sulla sulla retta naturalmente passante per b e per a a questo punto dopo aver calcolato l'altezza ch e la base a b siamo in grado di trovare l'area facendo base per altezza diviso 2 e quindi qui questo è l'ultimo procedimento l'ultimo passaggio passiamo alla slide successiva qui abbiamo calcolare il perimetro di un triangolo date le coordinate dei vertici a b c il perimetro si calcola seguiamo i punti sotto indicati si calcola lunghezza ogni lato con la formula e la distanza tra due punti quindi a b come radice quadrata di x b meno x al quadrato più y b meno y al quadrato lo faremo naturalmente con a b con b c con a c il perimetro e la somma dei tre lati delle tre lunghezze qui c'è scritto trovare l'equazione retta passante per un punto dato parallela un punto dato p e parallela ad una retta data r allora nel grafico qui vediamo che il punto diciamo qui abbiamo la retta y uguale a m1x più q nel grafico e abbiamo un fascio di retta che passa per il punto a di coordinate x1 y con 1 e la retta del fascio parallela alla retta y uguale a m1x più q nel procedimento che noi indichiamo scriviamo questo si scrive prima l'equazione del fascio di retta passanti per il punto dato nel nostro caso il punto a di coordinate x1 y con 1 è un fascio proprio quindi sarà y meno y con 1 uguale a m per x meno x1 poi si trova il coefficiente angolare della retta data r si sostituisce al generico coefficiente angolare del fascio il coefficiente angolare della retta data r diciamo in questo caso la retta r è la retta y uguale a m1x più q per cui io imporrò all'equazione del fascio la condizione che deve essere m uguale a m1 questo per avere la retta passante per a e parallela a retta m1x più q si scrive poi l'equazione del fascio di rette passanti per il punto quello che abbiamo detto prima sia il coefficiente angolare della retta r e si sostituisce abbiamo detto al generico coefficiente angolare il coefficiente angolare della retta data r quindi sono i passaggi che dobbiamo fondamentalmente seguire per risolvere il problema e a questo punto possiamo passare alla slide successiva avendo indicato appunto come determinare la retta passante per a e parallela a retta m1x più q quindi ricordiamo l'equazione del fascio per il punto a di coordinare x1 y con 1 ricordiamo che questa retta m1x più q ha pendenza m1 si impone al fascio o meglio si impone che il coefficiente angolare m del fascio assume il valore m uguale a m1 questo per trovare l'equazione della retta che passa per a ed è parallela a m1x più q passiamo alla slide successiva qui invece l'esercizio chiede di trovare l'equazione della retta passante per un punto dato p è perpendicolare è un problema analogo qui abbiamo una retta m1x più q che è la retta assegnata vogliamo determinare la retta che passa per a ed è perpendicolare a m1x più q sfruttiamo l'equazione del fascio proprio per a imponiamo che la retta del fascio abbia m uguale a meno 1 su m1 questo perché vogliamo che sia perpendicolare alla retta m1x più q a questo punto l'esercizio finisce verificare se un punto dato appartiene ad una retta a condizioni di appartenenza di un punto di una curva algebrica in questo caso una curva lineare è quella di sostituire le variabili x ed y della curva della retta le coordine del punto se l'equazione è soddisfatta e possiamo dire che il punto p appartiene algebricamente alla retta la verifica geometrica si esegue dal grafico passiamo alla slide successiva trovare le coordinate del baricentro in un triangolo ricordiamo che il baricentro è il punto d'incontro delle tre mediane le mediane sono i segmenti che congiungono i vertici con il punto medio del segmento a b b c e a c quindi i passaggi sono questi prima per trovare il baricentro si trovano prima le equazioni di due mediane con la formula retta passante per due punti ricordiamo che la retta per due punti per il punto a di coordinate x con a y con a per il punto b di coordinate x, b, y, b equazione x meno x con a fratto x, b meno x con a uguale ad y meno y fratto y, b meno y con a questa è un'equazione di una retta per due punti dove ricordiamo che x, a, x, b y, a, y, b sono numeri coordinate numeriche quindi si sono il sistema tra due rette quindi in questo passaggio se io sono interessato a trovare il punto g troverò la retta passante la retta cm la retta chiamiamola cgm, agm l'intersezione di queste due rette fornirà le coordinate del punto c g fondamentalmente stiamo determinando le rette che congiungono i vertici con il punto medio del lato opposto al vertice e queste rette sappiamo che contengono il punto g che è comune a comunque a tutte le rette passanti per i punti medi dei lati e per i vertici opposti al lato considerato che sono tre in questo caso qui invece trovare la distanza da due rette parallele la distanza intesa come segmento mn si trova prima un punto di una delle due rette dando a x un valore arbitrario e trovando così il corrispondente o ed y quindi si può trovare per esempio il punto m in modo arbitrario e poi si calca la distanza punto retta naturalmente fissato m io determino la distanza retta q dal punto m con la formula che dà la distanza punto retta per questo invitiamo a consultare il sito Madepetracca nella sezione relativa alla geometra analitica abbiamo delle sintesi schematiche di formule importanti che si adoperano per la retta per la circonferenza per la parabola e per l'elisse trovare il luogo geometrico dei punti equidistanti da due punti dati ovvero l'equazione dell'asse nel segmento la sezione del luogo dei punti che hanno la stessa distanza da a e da b tutti i punti dell'asse che la retta tratteggiata hanno la stessa distanza da a e da b si chiama asse del segmento questa linea che in quanto luogo geometrico quindi passaggi nei seguenti se io sono interessato a trovare l'equazione dell'asse si calcola il punto medio a b come facendo x a più x b diviso 2 y con a più y b diviso 2 poi si trova l'equazione della retta passante per i due punti dati a e b e si determina il coefficiente angolare di questa retta perché? perché il coefficiente della retta passante per m perpendicolare alla retta per a b è semplicemente determinabile utilizzando se vogliamo l'equazione del fascio che passa per m fascio proprio imponendo al fascio la condizione che deve essere m uguale a meno 1 m su a b affinché sia ortogona alla retta che passa per a b e questa è la soluzione del problema qui abbiamo trovato la distanza di un punto da una retta r ecco quella formula che avevamo già accennato in slide precedenti è questa cioè io se sono interessato a trovare la distanza del punto p dalla retta r e h è il piede della perpendicola andotta da p alla retta r dirò che la distanza è il modulo di ax0by0 più c diciamo che ax più by più c è l'equazione implicita della retta r ho sostituito ad xy le coordinate del punto p che sono x0 e y0 ricordiamolo e fratto radice di a quadro più b quadro che sono i coefficienti della x e della y della retta r con questa ultima slide terminiamo la video lezione e si invita l'alunno a consultare il sito matepetracca.blogspot.it per ulteriore materiale di approfondimento